Musica Cresce il numero delle imprese attive nell'isola, l'export alimentare registra un più 8,2% rispetto al 2021. Nuova denuncia di Carla Cucu per il pronto soccorso del CTO, la consigliera regionale ha chiesto un intervento immediato all'assessore regionale della sanità. La seconda fiera della nautica si terrà nella marina di Porto Rotondo, l'assessore regionale del turismo sottolinea l'importanza dell'evento per la promozione turistica dell'isola. Bilancio positivo a Cagliari per il Career Day 2023, ha chiuso l'evento la premiazione dei vincitori della sfida lanciata dalla società Giobili, un gruppo di giovani sulcitani. Buon mercoledì 18 gennaio 2023 a tutti i telespettatori di Canale 40, ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale odierno. Cresce dello 0,7% il numero delle imprese attive nell'isola, export alimentare a più 8,2% rispetto al 2021. Maurizio Rocci. Crescono le imprese attive nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 e aumenta anche l'esportazione di prodotti alimentari. A stabilirlo sono i dati elaborati dall'ufficio regionale di statistica su fonte Movi Imprese e Union Camere. Nel terzo trimestre dell'anno, infatti, il numero delle imprese attive, pari a 146.141, è in leggero miglioramento, più 0,7%, rispetto allo stesso periodo del 2021, 145.192 attività in esercizio, un dato che già segnava un netto miglioramento rispetto al terzo trimestre del 2020, anno Covid, quando la sticella si era fermata a 143.822 imprese attive. Numeri in controtendenza rispetto al dato italiano del meno 1,1%. Insomma, la reazione dell'economia sarda all'indomani della pandemia ha dato segnali positivi, anche sul fronte del commercio estero. Senza considerare il comparto oil, ossia quello relativo a petrolio, gas, coke e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio, nel periodo da gennaio a settembre 2022, i primi due settori che hanno il maggior peso relativo, ovvero i prodotti chimici e alimentari, crescono rispettivamente del 13% e dell'8,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il prodotto interno lordo sardo torna ad aumentare con dati incoraggianti. I dati, ha affermato il governatore Cristian Solinas, testimoniano la capacità del sistema di riprendersi parte delle quote di mercato che la pandemia aveva penalizzato e in qualche caso ridimensionato. Con 704 progetti finanziati che hanno attivato oltre 43 milioni di euro di investimenti sul territorio e creato o salvaguardato 2300 posti di lavoro, è positivo il bilancio per la Sardegna nei primi 5 anni di Resto al Sud, l'incentivo di Invitalia che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali da parte di chi ha un'età compresa tra i 18 e i 55 anni. A Sassari sono stati finanziati 217 progetti con oltre 13,5 milioni di euro, creando un'occupazione di 750 unità. Seguono Cagliari e Nuoro con 189 e 141 progetti approvati e finanziati rispettivamente con oltre 12 milioni di euro e quasi 8,5 milioni di euro, 716 e 415 nuovi posti di lavoro. Non si può andare avanti, siamo veramente in una situazione surreale oggi con una nota della ASL, veniamo informati che non ci sarà nessuna chiamata ai medici in affitto, il pronto soccorso di Iglesias torna a chiudere. La consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, segretaria della Commissione Sanità, ha contattato ieri in serata l'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale ribadendo la disponibilità dei medici ma la totale assenza di volontà da parte della ASL di mantenere aperto il pronto soccorso. Il sindacato insieme ai lavoratori rimarranno a presidiare il loro posto di lavoro fino alla soluzione del problema. Io sarò con loro, non intendo accettare, dopo tante battaglie, che questa situazione prosegua nel silenzio di tutti, ha rimarcato Carla Cuccu. Servono azioni mirate a risolvere questo sabotaggio, dove viene negato il diritto alla salute ai cittadini di Iglesias, dei paesi vicini e di tutta la Sardegna. Ora basta. Andiamo avanti. Claudia Torru e Valeria Azzori a Sassari hanno da poco concluso il ciclo di chemioterapia per curare un tumore al seno e dopo le ultime analisi la fiducia è alta e per trasmetterla anche alle altre pazienti in cura sia la SMAC, la senologia multidisciplinare aziendale coordinata, sia degli ospital di oncologia hanno voluto donare 200 piantine grasse. Un pensiero per le donne che portano avanti la loro lotta contro il tumore al seno, ma anche per i familiari che con loro condividono le preoccupazioni per una malattia che nel tempo è diventata sempre più curabile. Un gesto di generosità e di solidarietà nei confronti di chi sta affrontando un percorso di cura che diventa anche un messaggio di positività perché da questo percorso si può uscire e riprendere la propria vita, anche arricchiti da una grande esperienza umana. L'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro stamane negli uffici dell'assessorato ha incontrato Matteo Baire, presidente regionale dell'ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, titolare di un'azienda di trasporti che ieri ha denunciato pubblicamente un grave atto di bullismo avvenuto su uno dei suoi bus ai danni di un ragazzo autistico. Invitiamo tutti coloro che sugli autobus assistono a episodi di violenza fisica, verbale e di tutto ciò che è riconducibile al bullismo ad avvisare il personale dei mezzi o a rivolgersi alle forze dell'ordine, ha detto l'assessore Antonio Moro nel corso dell'incontro cui ha partecipato anche il sindaco di Capoterra Beniamino Garau. Il bullismo è un fenomeno grave da sradicare e combattere in ogni modo e la denuncia del presidente Baire è un segnale importante, esempio da seguire. La seconda edizione della Fiera Nautica della Sardegna si svolgerà dal 21 al 25 aprile nella Marina di Porto Rotondo. L'evento, dopo il successo ottenuto della prima edizione nel porto turistico di Olbia, è stato organizzato dal Cipnes Gallura, Consorzio Industriale Provinciale Nord-Est e dal Comune di Olbia con la collaborazione dell'assessorato regionale del turismo e del patrocinio di Confindustria Nautica. Alla conferenza stampa di presentazione rappresenta l'assessore regionale del turismo, artigianato e commercio Gianni Chessa. Vediamo insieme l'intervento. Da Olbia a Porto Rotondo la prima iniziativa ha avuto un grande successo, un grande richiamo. Questa iniziativa sarà ancora più forte, un richiamo ancora più importante, ci saranno ancora più operatori nautici che esporranno e quindi ci presentiamo con una Fiera della Nautica ancora più importante e soprattutto un richiamo della promozione della Sardegna che apre e aprirà la stagione turistica già dal mese di aprile. Stiamo puntando a una Fiera della Nautica che porta la Sardegna come polo nautico del Mediterraneo, al centro del Mediterraneo. Questo è l'obiettivo di portare grazie alla Nautica e ai cantieri nautici che ci sono qui in Gallure, non solo, ma tutta la Sardegna, veramente al centro del Mediterraneo. È un obiettivo che possiamo raggiungere, abbiamo veramente maestranze d'eccellenza. La Nautica regionale sta dando grandi segnali di economia, di posti di lavoro, perché non rivalutarla e ripartire. Questa seconda edizione riparte dall'esperienza di ciò che è stata la prima, quindi aumentare e rafforzare questo segmento economico è importante. È un dovere di rafforzare tutti i settori. La Fiera della Nautica è uno dei settori che rafforzerà e che aprirà la stagione estiva. D'altronde l'80% dei turisti viene d'estate e viene per il mare. Allora perché non rafforzare il concetto del polo nato e del Mediterraneo? La mia idea di Sardegna è sempre di concentrare tutte le azioni, non lasciarle isolate. Perché senza aveva fare una Fiera della Nautica ed essere da soli qui in Sardegna e poi non andare nel mondo e farci conoscere. Adesso andiamo a Dursale, poi andremo a Dubai, poi andremo anche in altre nazioni, faremo sapere che esistiamo, partecipiamo alle loro Fiere della Nautica, proporremo il nostro pacchetto di servizi, di qualità e quindi poi diremo noi andiamo nel mondo per portare il mondo in Sardegna e la Nautica fa parte di questo sistema a Sardegna. Cambiamo argomento, sono 271 i nuovi positivi al virus in Sardegna su 2.572 tamponi eseguiti, 22 diagnosticati da molecolare e 249 da antigenico. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 più 1 mentre quelli ricoverati in aria medica sono 101 meno 11. Sono 4.459 le persone in isolamento domiciliare meno 422. Si registra il decesso di una donna di 87 anni residente nella provincia di Sassari. Bentornati in studio, il comune di Sant'Antioco è alla ricerca di due istruttori direttivi tecnici categoria D1. L'amministrazione comunale del centro lagunare ha indetto la selezione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato delle due figure specifiche con riserva prioritaria del posto in favore dei volontari delle forze armate. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate entro il 1 febbraio in modalità online. Ulteriori dettagli sono disponibili nel sito internet istituzionale del comune. Il comune di Oristano ha giudicato i lavori per il primo stralcio funzionale della manutenzione messa in sicurezza della viabilità urbana della città e delle frazioni. Si tratta di un intervento importante sul fronte degli interventi di manutenzione e rifacimento per garantire la percorribilità delle strade, spesso compromessa dalle precarie condizioni del manto, della segnaletica orizzontale e verticale e in alcuni casi anche della struttura della carreggiata, ha dichiarato l'assessore della viabilità Ivano Cucu. Tra gli interventi più rilevanti, quello per un lungo tratto della via Cagliari, da Piazza Manno al mercato comunale di Via Costa, via Solferino, Piazza San Martino, Asili Nuranigedu, Massama e Donigala Fenugedu. Sarà bonificata l'area invasa da detriti ed amianto di Taccarossa nel comune di Carloforte. Dopo aver individuato il proprietario dell'area, a seguito di una segnalazione dell'Associazione Ambientalista Gruppo di Intervento Giuridico, il comune e la forestale hanno sollecitato la pulizia della discarica. Andiamo avanti a Cagliari, si è concluso il Career Day 2023, vediamo insieme il servizio. Il Centro Congressi della Fiera di Cagliari, ospitato il Career Day 2023, organizzato dall'Università di Cagliari e dall'ASPAL con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna. Rispetto alla prima edizione, sono state raddoppiate le giornate, aggiunte nuove iniziative e ben 34 società partecipanti in più. A chiudere l'evento è stata la premiazione dei vincitori della sfida lanciata dalla società Giovini per chi cerca lavoro. Ad aggiudicarsi il premio, una consulenza personalizzata del valore di 300 euro nell'azienda fondata e guidata da Claudio Sponchioni, è stato il gruppo di giovani composto da Arianna Cattalini, 24 anni di Narcao, studentessa in innovazione sociale e comunicazione. Giordano Pisu, 21 anni di Carbonia, studente in economia e gestione dei servizi turistici. Silvia Talana, 24 anni di Narcao, studentessa in economia e gestione dei servizi turistici. Nella sintesi finale, il professor Fabrizio Pilo, prorettore dell'innovazione del territorio, sottolinea. Centinaia di ragazze e ragazzi hanno effettuato numerosi colloqui di lavoro e ogni desk è stato continuamente popolato da giovani che hanno mostrato alle aziende presenti all'evento le loro competenze e le loro capacità. In contemporanea si sono svolti seminari molto interessanti. All'evento hanno partecipato 84 imprese che operano in Sardegna, tra le quali diverse anche su scala nazionale e internazionale, interessate a potenziare i loro organici con giovani formati a livello universitario e idonei per un prossimo inserimento nei quadri aziendali. Al termine delle attività, l'inaugurazione di due nuove aree verdi realizzate nell'Ateneo grazie alle quote di iscrizione delle aziende che hanno partecipato al Career Day. Passiamo ora alla cronaca. I vigili del fuoco di Tortoli sono intervenuti sulla strada statale 198 al chilometro 108 e 200 a seguito di un incidente stradale. Un fuoristrada Hyundai sbandando ha urtato il cordolo in cemento, rivaltandosi al centro della carreggiata. Il conducente è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Lanusei. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri di Lanusei e la polizia stradale di Tortoli. Le cause sono in fase di accertamento. Ieri a Monserrato i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso un 45enne di Selarjus ed un altro uomo da identificare compiutamente. I fatti si riferiscono alla sparizione di un bagno chimico che era stato collocato dalla ditta che operava per conto del comune a Monserrato per il rifacimento della rotonda di via San Fulgenzio. In pieno giorno era giunto sul posto un furgone e due uomini avevano caricato sul mezzo quell'impianto portandolo via. L'efficientissimo impianto di videosorveglianza comunale è stato ancora una volta determinante per individuare la tipologia del mezzo, la targa dello stesso e la fisionomia degli uomini che erano stati ripresi. Il bagno chimico è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari, resta da riconoscere il secondo soggetto. Lo scorso 12 gennaio Tempio Pausania con il suo suggestivo centro storico è stato ufficialmente ammessa nell'Associazione Nazionale I Borghi Più Belli d'Italia, un riconoscimento prestigioso e un risultato di grande valore e utilità che permetterà all'antica città di Pietra di usufruire della macchina promozionale dell'Associazione per migliorare la propria visibilità nel mercato turistico nazionale ed internazionale. L'importante riconoscimento sarà al centro della conferenza stampa che si terrà venerdì 20 gennaio alle 11 nella sala di rappresentanza del Palazzo Comunale in Piazza Gallura a Tempio Pausania. EGAS ha approvato un ulteriore finanziamento di 780 mila euro per l'ammodernamento della rete idrica di Sestu che si somma a quello licenziato lo scorso ottobre per un chilometro e 649 metri di nuove condotte con un investimento di oltre 1 milione e 620 mila euro, già appaltato dal gestore unico del servizio Abanoa S.P.A. Nel nuovo progetto sono due gli interventi previsti, una nuova condotta di alimentazione in ghisa speroidale di oltre 730 metri a partire dall'incrocio tra via Picasso e via Vittorio Veneto in direzione nord-est lungo via Iglesias fino all'incrocio con via Tripoli. È la creazione di una stazione di rilancio in Piazza Pertini allo scopo di garantire una pressione dell'acqua adeguata ed un approvvigionamento costante nelle abitazioni del quartiere Ateneo. Dopo il rinvio a causa del lutto che ha colpito nei giorni scorsi la comunità di Barbusi si svolgerà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18 e 30 presso la piazzetta antistante alla chiesa il terzo falo di Sant'Antonio Abate, un'iniziativa organizzata dal comitato spontaneo falo di Sant'Antonio di Barbusi in collaborazione con la parrocchia Beata Vergine delle Grazie e il comune di Carbonia. Alle ore 18 e 30 si svolgerà la benedizione ed accensione del falo e la benedizione degli animali. A seguire un momento di fraternità con l'intrattenimento per bambini a cura della proloco di Carbonia e la partecipazione del gruppo folk Ismessaius di Barbusi. Una scalinata per la pace. Il comune di Arzachena cerca un artista per la nuova scalinata. Vediamo il servizio. Una scalinata per la pace è il tema indicato dall'amministrazione comunale di Arzachena per la selezione delle proposte di artisti, professionisti, agenzie, aziende che vorranno partecipare al bando pubblico e cimentarsi nell'ideazione e realizzazione dell'edizione 2023 dell'installazione sulla scalinata di Santa Lucia. L'iniziativa è stata organizzata dalla delegata della cultura Valentina Geromino e sarà inaugurata in occasione delle prossime festività pasquali per animare il centro storico cittadino. L'installazione della scalinata di Santa Lucia si è consolidata nel tempo come un atteso appuntamento artistico-culturale annuale ha spiegato Valentina Geromino. Visto il momento storico in cui ci troviamo caratterizzato dall'acquirsi di tensioni e drammatici conflitti che coinvolgono più o meno tutti a livello globale, con questa iniziativa l'amministrazione comunale di Arzachena intende veicolare e promuovere un rinnovato messaggio di pace attraverso un'opera che contraddistinguerà il nostro centro storico per i prossimi mesi. Diamo la possibilità ad artisti di calibro nazionale e internazionale di interpretare e rappresentare questo delicato tema con concetti astratti o particolari riferimenti all'attualità. Ciascuno potrà esprimersi attraverso il proprio linguaggio e la propria estetica, così da offrire una personale visione della pace, della cooperazione, dell'uguaglianza e della solidarietà tramite il potente canale dell'arte. L'installazione potrà essere realizzata su 70 tavoli in legno messe a disposizione dal comune di Arzachena o con l'utilizzo di altre tecniche. Le candidature devono essere presentate entro le ore 14 del prossimo 6 febbraio. E' stato presentato ad Oliena il progetto a scuola di murale, un laboratorio per ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni organizzato dall'assessorato comunale delle politiche giovanili che prevede il ripristino di alcuni murales del nostro paese ed anche una nuova realizzazione a tema da concordare. Sono rimasta positivamente colpita dall'entusiasmo dei ragazzi partecipanti, ha detto l'assessore Antonella Moro. Iniziative come questa vengono infatti proposte per diversificare l'offerta educativa con particolare riferimento alla gestione del tempo libero, privilegiando forme di aggregazione in presenza che incontrino il gradimento di preadolescenti e adolescenti. L'intento è coinvolgere i ragazzi in maniera diretta in progetti, in questo caso artistici, che creando appartenenza li spingano successivamente a prendersi cura delle numerose opere che abbelliscono il nostro paese. Venerdì 20 gennaio alle ore 10 presso la sede di Via Mazzini l'Associazione Asvoc di Carbonia donerà al Corpo di Polizia Locale un defibrillatore utilizzabile per interventi urgenti sul territorio. Lo strumento salvavita integrerà il servizio svolto dalla Polizia Locale, che già opera sul territorio in situazioni di pronto intervento per la sicurezza stradale e l'incolumità delle persone. L'amministrazione comunale di Carbonia ha accolto con favore la proposta di donazione pervenuta dall'Asvoc, approvata con deliberazione della Giunta Comunale numero 59 del 6 aprile 2022. Venerdì 20 gennaio 2023 presso la MEM Mediateca del Mediterraneo in Viale Goffredo Mameli 164 a Cagliari, con inizio alle ore 10.30 si terrà la presentazione della mostra storica Sfogliare la storia. Combattentismo, fascismo e sardismo nelle pagine dei giornali nazionali e della Sardegna tra il 1918 e il 1927. Interverranno Maria Dolores Picciao, assessora della cultura e spettacolo del Comune di Cagliari, ed Alberto Monteverde, curatore scientifico della mostra. Andiamo avanti. Dopo la pausa delle festività natalizie, il SIGIS, sindacato italiano gestori impianti sportivi, si è messo a lavoro per trovare soluzioni all'emergenza in cui versano i gestori di impianti sportivi. Nei prossimi giorni il presidente Sergio Tosi incontrerà il presidente del CONI Giovanni Malagò, con la segretaria del ministro Andrea Bodi e con Sport e Salute, per esporre le richieste che i gestori di impianti sportivi propongono con insistenza al sindacato SIGIS. I punti principali da approfondire sono il contributo per i gestori di palestre e la richiesta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal governo sulle politiche di aiuto per i gestori per arginare il problema dei costi energetici, causa di molte chiusure o di riduzione degli orari di apertura. L'usinghiero risultato per la prima edizione di Dateci Tempo, l'iniziativa a favore degli atleti paralimpici. Il progetto, ideato e organizzato da SISCOUT, in collaborazione con la Coop Sociale Group e il patrocinio del Comune di Oristano, ha erogato 11 borse per lo sport da destinare ad atleti con disabilità intellettiva e che è culminato con l'evento di presentazione del calendario 2023 e della mostra fotografica lo scorso 8 dicembre presso il Teatro San Martino. I fondi raccolti consentiranno di inserire e aumentare le ore di pratica sportiva agli atleti in vista anche di importanti manifestazioni sportive nazionali. Era l'ultima notizia di questa prima edizione del nostro telegiornale odierno, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e con Noasa in corso, il nostro telegiornale in lingua sarda. Grazie per essere stati con noi e per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40 e vi auguro un buon proseguimento e un buon pomeriggio.